Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Il futuro televisivo di Caterina Balivo, attuale conduttrice de La Volta Buona, è al centro dell'attenzione. Il programma attira milioni di telespettatori, ma potrebbe esserci un cambio inatteso. Un noto giornalista ha riferito che Pierluigi Diaco potrebbe sostituire la Balivo nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, attualmente occupata dal suo talk show. Diaco, attualmente alla guida di Bella Mao su Rai 2, sembra pronto a conquistare questa fascia oraria di maggiore prestigio, creando una competizione interna alla Rai. La Volta Buona ha ottenuto risultati accettabili ma inferiori al programma precedente, mentre Bella Mao ha visto un netto incremento rispetto all'anno scorso. I dati sugli ascolti suggeriscono che Diaco potrebbe avere maggiori possibilità di approdare nella fascia del primo pomeriggio su Rai 1, ma le decisioni definitive non sono ancora state prese. Sia la Balivo che Diaco sono giornalisti molto stimati in Rai, rendendo la scelta ancora più difficile per i vertici della rete. La situazione rimane in evoluzione, con l'aspettativa che la competizione tra Caterina Balivo e Pierluigi Diaco possa risolversi in favore di uno dei due, influenzata anche dagli appoggi politici ricevuti. E voi, cosa ne pensate? Preferite la Balivo o Diaco? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.